Allora, cari cittadini, c'è il primo caso risultato positivo nel comune di Montevarchi, si tratta però di un insegnante residente a Filine Valdarno, che però insegna presso il nostro istituto comprensivo Maggiotti alla scuola primaria di Leonardo da Vinci. In base al documento appena pervenuto dall'ASL, sono stati messi in isolamento domiciliare per 14 giorni, 50 tra bambini, insegnanti e personale scolastico. L'isolamento scadrà il 17 marzo, perché è già iniziato il percorso di allontanamento tra l'insegnante e i possibili contatti con i bambini e con le altre insegnanti. Adesso verranno tenuti sotto controllo quotidianamente dalla ASL, affinché rispettino l'isolamento e li verranno fatti tutti i controlli del caso. Quindi vi aggiornerò se ci dovessero essere delle modifiche, chiedo a tutti naturalmente di continuare a stare a casa. Le direttive sono sempre più strette, quindi la Polizia Municipale è chiamata dal Prefetto a fare controlli sul rispetto della chiusura degli esercizi commerciali e sul controllo anche alla cittadinanza, perché come sapete ci si può muovere solo per motivi di lavoro o per motivi sanitari. Non si può andare a fare spesa, quindi acquisto di genere alimentare fuori da un altro comune e si può uscire appunto soltanto con una certificazione valida. In molti comuni sono già state fatte delle sanzioni pesanti, perché appunto non c'erano motivazioni valide, quindi vi chiedo di stare a casa e soprattutto di non frequentare i parichi pubblici e di non andare a passeggiare nelle zone di campagna in gruppo, perché ci si può muovere solo in maniera individuale e il minimo indispensabile. Grazie.